Buonasera, ben ritrovati all'appuntamento con l'informazione di Teleroma 56, buonasera all'ospite di oggi il collega Fabio Salamida, buonasera, leggete tra le altre cose anche sugli stati generali, un'edizione questa del telegiornale particolarmente densa di spunti e allora partiamo da quello di giornata forse più succulento, Salamida, il concertone si fa, non si fa a Roma, prima sembrava certa la sua cancellazione, poi è arrivato un po' l'altolà del vice sindaco, nonché assessore alla cultura Luca Bergamo, per dire attenzione si farà però alle nostre condizioni, la cronaca nel servizio di Givittucci. Capodanno senza botti e dopo vent'anni senza concertone, dal 29 dicembre fino alla mezzanotte del primo gennaio nel territorio di Roma Capitale è disposto il divieto assoluto di usare materiale esplodente, fuochi artificiali, petardi, botti e razzi, questo prevede un'ordinanza firmata ieri dalla sindaca Virginia Raggi e salta anche il concertone per la notte di San Silvestro, una festa che negli ultimi vent'anni ha avuto fra i suoi protagonisti Ligabù e Antonello Venditti, Negramaro e Renato Zero. Le ultime vicende che hanno coinvolto il Campidoglio potrebbero aver spaventato quanti intendevano investire sulla festa di fine anno, alcuni degli sponsor che avrebbero dovuto coprire le spese del concertone di Capodanno avrebbero infatti deciso di fare un passo indietro. L'assessorato alla cultura in realtà aveva annunciato nei giorni scorsi una serie di iniziative per il primo gennaio da organizzare tra i ponti sul Tevere. Il programma parte con il primo evento alle tre della notte di Capodanno per poi proseguire nelle ore della giornata che aprirà il 2017. Nessun fallimento in merito alla vicenda del concertone al Circo Massimo ha però voluto chiarire il vice sindaco e assessore alla cultura Luca Bergamo. La festa per il primo dell'anno a Roma c'è e sarà una delle più belle che i romani potranno ricordare a sicura. Bergamo ha spiegato che l'amministrazione per il concertone ormai sfumato ha voluto evitare la strada degli affidamenti diretti convinti della necessità di un forte segno di discontinuità anche nella modalità d'uso del Circo Massimo per eventi. In ogni caso le istituzioni culturali capitoline sono al lavoro su un piano B da mettere in campo con costi limitati per coprire in qualche modo anche il tradizionale brindisi di San Silvestro a cui i romani e i turisti tengono particolarmente. Dunque concertone no ma sì al piano B poi attenderemo di capire meglio come sarà articolato. Fabio Salamida nei suoi post, nei suoi articoli mai è stato troppo tenero con l'aggiunta Raggi. Perché? Beh tendenzialmente siamo di fronte a quello che ci si aspettava un po' da Virginia Raggi ma non solo da Virginia Raggi perché ovviamente un fallimento di questa portata non può essere solo colpa di una persona. Siamo di fronte al fallimento di un progetto politico che è quello del Movimento 5 Stelle cioè quello di avere una non classe dirigente alla guida di grandi città, alla guida loro aspirano anche del governo del paese. Siamo di fronte al partito dell'uomo qualunque di questo nuovo secolo. Ora il partito dell'uomo qualunque non esprime una classe dirigente e loro stanno dimostrando di non essere in grado di esprimere una classe dirigente. Ecco questa analisi spietata mi dovrebbe dire che fai però quanto anche figlia dei fallimenti precedenti che questa città ha vissuto buon ultimo insomma l'epilogo dal notaio del PD di Marino? Beh Marino se andiamo a ricostruire un po' la storia degli ultimi decenni di questa città è stato parte dell'inizio di questo processo. Se ci pensiamo noi venivamo da una stagione molto lunga di governo dell'amministrazione di centrosinistra, prima Rutelli e poi Veltroni. Finita quella stagione che comunque può piacere o non piacere ma è stata una stagione in cui la città ha raggiunto anche dei livelli di vivibilità, di prodotto interno lordo, di crescita. Era anche un altro contesto economico. Un altro contesto economico e storico. Però finita quella stagione abbiamo avuto i famosi cinque anni di Alemanno che poi venne sorrannominato dopo poco alle Danno e quindi diciamo quello che era poi diventato un utilizzo del potere come affiliazione, come ufficio di collocamento di amici e parenti eccetera eccetera. Finiti quei cinque anni c'è stato il rigetto, i romani hanno avuto un rigetto verso la classe politica e Marino è andato a vincere le elezioni con uno slogan che ricordiamo tutti, si diceva non è politica in Roma perché era proprio figlio di quel momento storico. Finita diciamo l'esperienza di Marino in malo modo anche per responsabilità sia dello stesso ex sindaco che io aggiungo dell'ex presidente del Consiglio Matteo Renzi che ha voluto fare quella prova muscolare con Marino, siamo arrivati all'epilogo che non poteva essere altrimenti con l'antipolitica al potere della città. Ora l'antipolitica essendo proprio antipolitica non sa fare politica, il problema del concerto di Capodanno è forse un problema minore degli ultimi mesi, questi sei mesi la giunta e le giunte municipali sono praticamente pari. Roma è una città in questo momento paralizzata e agonizzante se volessimo usare delle parole un po' forti. Andiamo un po' sul territorio perché oggi ci siamo fatti un giro per una delle arterie principali dello shopping in generale ma natalizio in particolare di Roma, parliamo di via Cola di Rienzo, questo l'abbiamo fatto con l'onorevole del PD Liana Argentin che vive su una carrozzina e per lei lo shopping così come per tutti coloro che sono costretti su una carrozzina non è certo impresa agevole. Armando Fioretti. Oggi siamo qui a via Cola di Rienzo, ad esempio un posto accessibile io pensavo con grandi marciapiedi, con rampe e scivoli, quindi dico vado, acquisto senza fatica e invece no, i nostri soldi a quanto pare non mettono, come dire, il sale sulla coda a nessun commerciante. In molti in questi giorni si stressano per cercare regali di Natale, per chi è diversamente abile gli stress sono altri, le insidie sono ovunque nelle vie dello shopping della capitale, gli scivoli di accesso e marciapiedi sono spesso bloccati, le doppie file non fanno sconti a nessuno e le bancarelle o gli addobbi natalizi rappresentano degli ostacoli per chi per muoversi ha bisogno di una carrozzina. Questa mattina con la deputata del PD, Iliana Argentina, abbiamo percorso via Cola di Rienzo, luogo amato dai romani per i pensieri natalizi, eppure anche qui i problemi sono molteplici. Iliana è stato complicato attraversare la strada, ma adesso è praticamente impossibile salire sul marciapiede. Assolutamente sì, il marciapiede è bloccato, da macchina ineducata direi e quindi da proprietario, tutti diciamo che i disabili non devono avere le barriere, poi ce lo scordiamo quando abbiamo fretta e andiamo a fare i regali o al lavoro, vabbè ma già al lavoro la potrei capire di più, ma insomma per andare a fare i regali, impedire la mobilità è grave. E' dunque impossibile attraversare una strada o salire sul marciapiede, poi c'è il capitolo legato ai negozi, spesso troppo affollati ma soprattutto inaccessibili per chi è diversamente abile. Gli scalini eccessivamente alti infatti rappresentano un ostacolo insormontabile. Ecco Elena, in queste circostanze per voi è impossibile entrare? Sì, assolutamente impossibile, è un po' come Pretty Woman, c'è chi la rifiutava perché era una donna di strada, a noi ci rifiutano perché siamo su quattro ruote. Prima parlavamo di Marino che sognava ed è rimasto tale una città a misura di bambino, qui però anche la città a misura di disabile è lontana da anni luce, Saramita? Beh sì, da una parte c'è il problema delle barriere architettoniche di molti esercizi commerciali che in tutta Europa si sono trovati anche dei modi molto economici di riadattare gli scalini, mettere delle rampe mobili che poi possono essere dimorse. Insomma ci sarebbe, basterebbe veramente poco a molti negozianti privati per risolvere questo problema. Dall'altra mi sembra che sia chiaro un problema anche di inciviltà che insomma è inutile che ci torniamo sopra, chi parcheggia di fronte allo scivolo per i disabili io penso che andrebbe multato e probabilmente gli andrebbe tolta la patente dopo un paio di volte. insomma poi dopodiché Roma è anche una città che ha una serie di problemi che sono atavici da questo punto di vista, anche nella conformazione delle sue strade, anche oggi vedevo per esempio, sono un po' di giorni a dire il vero che vedo proprio a Prati che si sta riasfaltando alcune vie secondarie, il manto stradale viene asfaltato solo a metà. Quindi nel momento in cui poi succede che la società che, come è successo in passato, la società che deve mettere l'asfalto chiude le feritoie, la prima pioggia la strada diventa un fiume. Ora ci sono una serie di cose che riguardano sicuramente la cattiva amministrazione, ci sono una serie di cose che però riguardano anche alcuni cittadini che forse dovrebbero essere un po' più civili. Noi non ci stessiamo di continuare a denunciare ormai anni che lo facciamo, però veramente l'invito è anche a un senso civico che soprattutto nei giorni di Natale, perché sono particolarmente affolate le strade, lo vediamo, lo viviamo sulla nostra pelle, è particolarmente difficile, però anche in medesimarsi in chi ha qualche difficoltà in più non guasterebbe. Roma rischia di non avere un bilancio, al momento questa è la situazione dopo la bocciatura dell'Oref, allora con Fabrizio Massantini ci siamo interrogati su quali sono a questo punto le tappe obbligate che attendono la Giunta per dotare Roma di un bilancio previsionale. Bene la politica di bilancio improntata a criteri di prudenza, ma spazi di finanza pubblica non sufficienti per rispettare l'equilibrio finanziario di fronte alle necessità che potrebbero rivelarsi. Sintetizzato nelle righe finali di oltre 40 pagine di numeri e tabelle, ecco il parere negativo espresso due giorni fa sul bilancio previsionale targato raggi da parte dell'Oref, l'organismo di revisione economico-finanziaria di Roma Capitale, i cui componenti in carica sono stati scelti dal commissario Tronca pochi mesi fa. In un momento politico già complesso, l'ennesima bocciatura al governo 5 Stelle di Roma non è passata certo inosservata. In dettaglio per l'Oref il bilancio del Comune pecca di una scarsa previsione di spesa per alcuni capitoli importanti, tra questi i debiti fuori bilancio, la gestione delle partecipate, la realizzazione della Metro C, il contenzioso sul contratto dei dipendenti di Roma TPL. Che succede dunque adesso? Il bilancio deve ricominciare da capo il suo iter. Va corretto, va riportato in Giunta e poi di nuovo in Aula. Difficile, anzi impossibile, nonostante le promesse dell'assessore Mazzillo di lavorare anche a Natale, che tutto ciò possa avvenire entro la scadenza prevista del 31 dicembre. In realtà di tempo ce n'è fino al 28 febbraio 2017, termine ultimo. Se anche questa proroga non bastasse per un'approvazione definitiva, e dal Campidoglio i 5 Stelle fanno sapere che non accadrà, comincerebbero però i guai. La Raggi dovrebbe nominare entro due giorni un commissario per redigere il bilancio. Se non ci riuscisse, toccherebbe al prefetto, Basilone, individuare un tecnico di comprovata esperienza che rediga la manovra. Da allora 30 giorni decisivi, 10 giorni a disposizione del commissario per predisporre il testo, e 20 quelli all'Assemblea per approvarlo. Se l'Aula non riuscisse a dare l'ok, il bilancio sarebbe approvato comunque dal commissario, ma il prefetto contestualmente scioglierebbe il Consiglio Comunale e convocherebbe nuove elezioni. Chi parla o scrive di commissariamento o di fallimento del Comune di Roma non ha idea di cosa dice. Scrive su Facebook l'assessore al bilancio Andrea Mazzillo «Rispettiamo l'OREF che chiede rigore e correggeremo dei parametri, ma abbiamo detto in campagna elettorale che avremmo difeso le fasce sociali più deboli e non verremo meno alle nostre promesse». Revisori non esperti in strutture complesse come il Comune di Roma, che si sono andati ad occupare di ambiti che riguardano la politica, rincara oggi in un'intervista lo stesso Mazzillo, ma c'è chi fa notare che la bocciatura era stata ampiamente preventivata dal ragioniere generale Fermante, poi dimessosi, e l'ex sindaco di Roma, Marino, prevede che se la giunta raggi cadrà sarà proprio sulla buccia di banana del bilancio. Saramida, come finisce la partita del bilancio? Ah, bella domanda. Può finire in tanti modi, potrebbe finire con la gestione commissariale dello stesso bilancio, potrebbe finire anche con lo scioglimento e il ritorno di un commissario alla tronca, io penso che questo sia proprio il caso sbelli di quanto l'incapacità di questa classe politica oggi, che è espressa dal Movimento 5 Stelle, possa danneggiare una città, una metropoli come Roma, perché non per essere cinico, ma finché i problemi sono a Ragusa, finché i problemi sono in piccole città, un'incapacità amministrativa viene coperta da una serie di altre, anche dal fatto che può essere meno nociva di altre. A Torino, anche se l'Appendino comunque sta lavorando meglio della Raggi, parliamo di una città piccola e ricca, Roma è una metropoli con dei problemi giganteschi e che se non dovesse avere un bilancio entro febbraio rischia veramente il collasso. Ora, mi fa molto ridere che l'assessore Mazzillo e la sindaca in queste ore stiano dicendo un po' quello che dicono sempre tutti i vecchi partiti, è colpa delle amministrazioni precedenti. Ora, il problema è che sul documento dell'Oref si parla di scarsa previsione della spesa, ovvero di quello che è stato redatto da questa giunta, non da quelle precedenti, e i debiti fuori bilancio sono una voce del bilancio che c'è sempre, ce l'aveva Marino, ce l'aveva Alemanno, ce l'avevano le giunte precedenti, perché sono i debiti che Roma si porta avanti spesso, sono da molti decenni. Quindi io penso che si possa seriamente, il rischio serio sia quello di arrivare a una gestione in dodicesimi del bilancio, che vorrebbe dire paralisi totale della città, peggio di come... Ecco, a proposito dei problemi che questa città vive, so che ieri c'è stato testimone oculare dell'inizio di un'attività, di un percorso che vedremo adesso dove ci condurrà. Parlo della Commissione parlamentare sulle periferie, ecco, che obiettivi si propone questa Commissione? Ieri c'è stato un giro, se non sbaglio, dottor Sapienza e San Basilio, ecco, che cosa è emerso a questo primo passo? Beh, diciamo che questa Commissione è stata creata proprio perché in questi ultimi anni sono emersi una serie di problemi giganteschi delle periferie italiane, in particolare anche a Roma, che richiedevano un'attenzione diversa da parte dello Stato. Quali sono gli obiettivi di questa Commissione? Sicuramente ridigere un libro bianco con quelli che sono i problemi più comuni che verranno trovati nelle 16 periferie dei 16 centri urbani più grandi, ma anche quello di cercare di, attraverso la magistratura, promuovere degli interventi, diciamo, anche urgenti. Ieri siamo stati in due realtà romane a San Basilio e a Tor Sapienza con, diciamo, due periferie che hanno problemi molto diversi fra loro. Nella prima ci sono sicuramente delle questioni legate alla casa, agli alloggi, perché ci sono dei grandi comprensori dell'Ater e anche di condizioni di vita. Nella seconda ci sono problemi un po' più seri, a Tor Sapienza siamo stati nel campo Rom, Salviati e Salviati 2, dove effettivamente si vede cose che non sono lontanamente immaginabili in una città dell'Unione Europea. Questo è il problema. Ti lancio una scommessa e provo a farti spendere una parola in favore della giunta Raggi. Vediamo se ci riesco con questo servizio, con la presentazione di una Roma più digitale. Questo è l'impegno preso oggi dall'assessore Marzano. Da iscrivere i figli a scuola, a capire il proprio stato IMS, a fruire del buono scuola di cui il 18enne può fruire. Tutti i servizi che si possono in qualche modo già fare online, si possono fare adesso anche con Speed. Da oggi tutti i servizi online per i cittadini della capitale sono accessibili tramite Speed, il sistema pubblico di identità digitale che semplifica il rapporto con la pubblica amministrazione. Le persone in possesso di un'identità digitale utilizzando un unico nome utente e una sola password potranno accedere a oltre 60 servizi online. Il Campidoglio dà quindi seguito alla delibera della giunta capitolina dell'11 novembre scorso e alla sottoscrizione della convenzione con l'agenzia per l'Italia Digitale. Parliamo di digitale, significa poter fruire di servizi online anche attraverso un sistema che è un po' più semplice che è quello dello Speed, appunto sistema pubblico di identità digitale che una volta accreditati garantisce la fruibilità dei servizi online. Sono più di 60, è il comune che ce ne ha di più in questo momento, siamo riusciti a farlo con un anno di anticipo rispetto alla scadenza perché la scadenza era a dicembre 2017, quindi anche di questo siamo contenti. Per supportare i cittadini che abbiano dubbio e difficoltà ad ottenere l'identità digitale Speed sono anche attivi i punti Roma Facile inaugurati lo scorso 30 novembre dall'assessorato Roma Semplice. Per chi ha difficoltà con internet, purtroppo ce ne sono tanti anche a Roma, difficoltà che possono essere di vario genere, possono essere appunto tecnologiche ma anche sociologiche, economiche, culturali, non importa. Abbiamo ipotizzato quelli che abbiamo chiamato punti Roma Facile che per ora sono sperimentali in due biblioteche delle periferie romane che porteremo poi in tutte le biblioteche romane, in tutti i municipi ed sono punti in cui il cittadino che vuole scrivere figlio a scuola per esempio andare e trova qualcuno che lo aiuta a farlo per la prima volta, per la seconda, per la terza finché poi piano piano imparerà. Allora me la spendi questa parola in favore della tutta la cittadina? C'è una cosa che insomma anche molte cittadini, all'onore del vero Roma arriva un po' a ritardo su queste questioni qui perché anche... Non per colpa dei 5 Stelle. Non per colpa dei 5 Stelle chiaramente, ma guardate che non è tutta colpa dei 5 Stelle perché comunque Roma ha un pregresso che sicuramente il problema è che i 5 Stelle rischiano di essere il colpo di grazia da Roma. Però si dice sempre così perché lo si disse di Alemanno, lo si è detto di Marina... Alemanno ci andò vicino ad essere il colpo di grazia, Alemanno gestisce e lascia la città in una condizione che effettivamente era diventata, rispetto agli anni precedenti, era diventata un qualcosa che poi lo stesso Marino con tutti i suoi limiti non è riuscito a gestire. Resterebbe da domandarsi allora perché i Romani elessero Alemanno con quello scarto anche nei confronti di Rutelli che rappresentava quella storia. Rutelli però in quel momento rappresentava la minestra di scaldate e poi ricordiamoci che periodo era quello lì, c'era stato da poco un fatto di cronaca molto serio e il tema di quel momento era la sicurezza. Alemanno cavalcò il tema della sicurezza salvo poi creare situazioni come quella dove siamo stati ieri con la Commissione parlamentare come il Campo Anomani di Via Salviati che è cresciuto a dismisura proprio perché le politiche repressive di Alemanno, ovvero chiudere tutti i campi Rom di Roma lasciandone aperti solo alcuni, ha creato delle vere e proprie favelasse nelle periferie romane. Quindi sicuramente c'è un pregresso su Roma. Ora questa cosa per esempio è molto utile, però mi verrebbe una battuta speriamo che il Sindaco Raggi cominci a usare il sito del Comune di Roma anche per parlare con i Romani al posto del blog di Beppe Grillo che il loro sistema di comunicazione negli ultimi mesi è stato solo quello. Dove tra l'altro stasera è uscito il video della neoassessora alla sostenibilità ambientale. Mi chiedevi una parola a favore. Alcuni delle persone scelte, dei tecnici scelti dall'aggiunta ultima all'assessore Montanari sono anche persone valide, ma io penso anche lo stesso Bergamo. Infatti mi dispiacerebbe se non riuscisse a organizzare il concerto di Capodanno perché lui passa per un grande organizzatore di eventi se non riuscisse a organizzare il concerto di Capodanno anche per il suo curriculum non sarebbe una buona cosa. Però il problema è che queste persone, anche queste persone brave che vengono in qualche modo messe nel gruppo che libertà di movimento possano avere in questo contesto. Grazie a Fabio Salamida. Continueremo a leggerti sugli Stati Generali, sul sito online naturalmente.